È un esploratore, vuole provare tutto nella vita. Un atteggiamento discontinuo è tipico nell'adolescenza, ma la maggioranza dei nati sotto questo segno è inaffidabile fino ai 30 anni. Io e te per l'eternità, la classica frase sentimentale suona molto male nell'orecchio di un sagittario, anche quando si sposa sente la necessità di avere in suoi spazi. Per questo motivo sta tanto tempo fuori casa. L'uomo che si dimostra poco attendibile rivela la sua natura di avventuriero, la sua indole è questa, inutile cercare di cambiarla. Anche la donna sagittario può rivelarsi discontinua nel suo modo di amare, in questo caso vuol dire che si annoia mortalmente e che prima o poi darà un taglio alla relazione.